Buon pomeriggio e buon anno di nuovo a tutti i ragazzi con oggi l'epifania, le feste le porta via e quindi da domani basta buon anno e solo buongiorno, buonasera e buon pomeriggio. Siamo qui in collegamento con lei che ormai mi segue dal 14 settembre 2020 nella social tv della Liberia Bocca, Simona Iar con i tavoli Iar. Simona si occuperà di una rubrica fissa settimanale perché nel programma della social tv 2021 Ricostruire senza sosta la speranza Salotto di Bocca in Liberia ci saranno 5 incontri settimanali dalla domenica al giovedì, 5 rubriche fisse ogni giorno, in più io ogni tanto come leggete sotto avrò mani libere e pensiero aperto per fare qualche ospitato. Ciao Simona benvenuta e buon anno, un po' la Raffaella Carrà, caramba che sorpresa. Eh oggi mi metto in tema. Sei fantastica e sei una persona anche molto intelligente perché il sarcasmo fa parte proprio delle persone intelligenti. Allora quindi 5 appuntamenti fissi, uno o due al massimo al giorno che posso aggiungere, che verranno comunicati ogni fine settimana sulla pagina Facebook della Liberia Bocca, tutte le rubriche saranno in diretta dalla pagina Facebook, tranne quella di domenica curata da Giovanni Gobbi che va su Instagram e vi dico un po' quali sono queste rubriche. Lunedì, tutti lunedì, rubrica Dynamic Culture di Fortunato D'Amico, da sempre interessato a navigare nella multidisciplinarità e nella multiculturalità nei linguaggi, transitando dai territori dell'arte, del design e dell'architettura, coniugati con la filosofia, la scienza, l'astronomia e i sistemi di vita. Martedì ore 17, canale Facebook, Gerardo Mastrullo e Diana Battaggia, La vita felice, un progetto editoriale che ha subito individuato la sua missione, sviluppatasi all'insegna dell'economico e del tascabile, ma caratterizzato da una particolare cura per la qualità grafica e il livello culturale dei libri, l'accuratezza delle traduzioni e la qualità della prefazione. Mercoledì ore 15, cara Simona, è la tua rubrica Tavoli e Art, sei un'artista visionaria, sei l'art curator unica nel tuo genere, il tuo percorso d'arte infatti è frutto di una lunga e laboriosa ricerca spirituale, e poi con te entreremo nello specifico. Giovedì ore 15, sempre sul canale Facebook della Liberia Bocca, è Patrizia Gallini, Ardash Comunicazioni, catturare l'attenzione della stampa e dei media per dare valore all'attività del cliente e nel nostro DNA professionale, maturato in oltre 20 anni di esperienza nella comunicazione ed impresa. E domenica ore 13, quindi tutte le domeniche del 2021, saremo in compagnia di Giovanni Gobbi. Ovviamente la diretta di Gobbi va su Instagram. Giovanni Gobbi è cultore di filosofia con particolare interesse per la filosofia medievale, il secento francese, l'illuminismo tedesco, il pensiero liberale inglese, in storia dell'arte interessata alle teorie degli storici tedeschi del XIX e del XX secolo. Insomma, Simona, sto Giovanni è un'enciclopedia portatile e viaggiante. Allora, queste sono le cinque rubriche, i cinque incontri fissi tutte le settimane per tutto il 2021 nella social tv della Liberia Bocca. Poi io, insieme a tutti gli altri collaboratori, che sono circa un centinaio, vedremo di contaminare qua e là. Raccontaci un po' della tua rubrica e di questo enorme impegno che ti sei presa nei confronti della social tv. Beh, intanto sono io che devo ringraziare te perché sei tu che mi hai dato l'opportunità di farne parte. Già collaboravamo insieme per quanto riguarda le manifestazioni artistiche e mi hai proposto, appunto, dato un po' l'esperienza e le conoscenze, di intraprendere questo percorso con te. Quindi ho iniziato insieme a te il 14 di settembre, dal primissimo giorno con Valeria Secchi e Jet Red. Sono stati i primi due ospiti della mia rubrica. E poi, praticamente, le cose sono andate avanti da sole, perché le cose belle alla fine non c'è bisogno di spingerle, vanno avanti da sole. Mi sono fatta un piccolo censimento. Nel 2020 ho realizzato 71 interviste, 71 che è anche l'anno della mia nascita. Guarda un po', poi come dici tu, i numeri poi tornano, non sono cercati. Ecco. Di cui 41 femminucce e 30 maschietti. Quindi sono in deficit di 11 maschietti che recupererò nel 2021. No, sei rosa, le quote rosa nel sangue, sei rosa, tranquilla. Però, devo dire, sono state molto variegate queste interviste. Ci sono stati chiaramente artisti, pittori, scultori, ma anche fotografi. Voglio ricordare Ferdinando Cioffi, Maurizio Gabbana, Gabriele Vinci Guerra. E poi abbiamo avuto anche Juan Borgia dal Perù, non tanto tempo fa. Siamo stati anche all'estero, siamo stati appunto in Perù, siamo stati in Israele. Quindi quest'anno punterò molto sull'estero, così, visto che non ci si può muovere, a questo punto viaggiamo con la fantasia. E viaggiamo soprattutto con l'arte e con la cultura. Ma poi ho avuto anche fuori programma tipo un falconiere. Cioè, voglio dire, tu sei libero ovviamente di spaziare nella tua spiritualità interiore che è molto alta, perché poi tu curi anche per una rivista online. Vai. Allora, io curo per un giornale online, un giornale internazionale, che attualmente conta 31 milioni di lettori, che si chiama International Web Post. Ho una rubrica che si chiama Spiritualità 360, dove appunto mi occupo di spiritualità 360 gradi, quindi non di religione, ma di spiritualità, anche di religione, ma di spiritualità in senso molto ampio. E poi ho una seconda rubrica che nasce dal gemellaggio, da questa collaborazione tra l'International e la Libreria Bocca, che si chiama appunto Incontri in Galleria. In questa seconda rubrica ci sono degli articoli, ma ci sono anche i video raccolti dal canale YouTube della Libreria Bocca, dove possiamo ritrovare le interviste che ho appunto rilasciato per la Social TV della Libreria Bocca nell'anno 2020. E poi chiaramente tutto andrà avanti, quindi nel 2021, 22, 23, finché ne avremo voglia. Non mettiamo fine alla speranza. Assolutamente. La Social TV ha questo mantra, questo jingle, ricostruire senza sosta la speranza. E di sorprese ce ne sono veramente tante. Intanto ricordo il 9 febbraio avremo ospite Alessandro Barbero, alle ore 15, sempre sul canale. Perché poi tutto l'archivio della Social TV è sul canale YouTube, Liberia Bocca 1775. E quando finalmente arriveremo ai mille iscritti, potremmo lanciare direttamente le dirette dal canale ufficiale della Social TV. Allora iscrivetevi. Iscrivetevi. È gratuito. È gratuito. E poi tantissime sorprese. Ma allora, insomma, sai che io sono abbastanza curioso? Chi abbiamo nel paniere? Cosa tiri fuori quel cappello magico? Allora, io... Sì, l'ho tolto perché mi sembrava poco serio. Ma no, che sei bellissima. Tranquilla. Va bene, da bevrana, grazie. No, no, tira un cappello a punta. Va bene. Ma stavo pensando di andare nel mondo dell'ufologia, perché comunque è molto interessante, molto intrigante, però sto lavorando per dei contatti all'estero. Volevo portarvi un po' al caldo, al sole. Non voglio dire troppe cose, perché se no la sorpresa poi si perde. Però ci sto lavorando. Dai, comunque, artisti sicuramente, ma, come dicevi tu, di quando in quando spaziamo anche in cose diverse. Perché quello che conta... Allora, la cultura prima di tutto, ma anche le belle persone. Anche, comunque, dare dei contenuti di persone che vivono delle realtà che magari noi quotidianamente non viviamo, ma che possono darci degli input nuovi. quindi vale la pena farle conoscere. Andiamo a cercare in giro per il mondo. Ci sono tante belle cose. Va bene, fantastico. Tra l'altro devi sapere che ieri mi è venuto a trovare, che io non conoscevo, cioè conoscevo di nome, e molti di voi che ci guardano lo conosceranno anche loro solo per nome, ma è venuto Gianni Maimeri, che è il nipote del Maimeri famoso che ha fondato, oltre ad essere artista, ha fondato anche il colorificio, i colori Maimeri, i grandi artisti e gli artisti in generale lo conoscono. E sarà prossimamente una delle mie incursioni in questi cinque appuntamenti fissi settimanali, perché vi ricordo che il venerdì e il sabato, ragazzi, riposo, riposo per modo di dire, ma non sono via social, non riposo mai. Scusa, scusa. No, 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 dimmi. No, dicevo, quindi noi avremo praticamente una intervista alla settimana, quindi sono i rubri. Gioia. Tu sei bella gioia, almeno che tu non voglia fare un paio, ma ovviamente dobbiamo poi restringere i tempi della diretta. Poi, va bene, tranquilla, se tu hai un appuntamento fisso settimanale, alle ore 15, poi se tra le 15 e le 16 ne vuoi inserire un paio di artisti, va bene, ti seguiremo. Sto facendo anche dei calcoli per i fusi orari, perché bisogna viaggiare quest'anno. Se avrai esigenze particolari, perché il collegamento è molto lontano, sposteremo l'orario, tutti coloro che ci seguono lo comunicheremo. Diciamo che l'appuntamento è fisso alle 15, poi ovviamente nella vita i cambiamenti sono possibili. Senti, allora, tu praticamente all'interno dell'International Web Post curi la tua rubrica di spiritualità, ma curi anche una rubrica che ormai è dedicata alla social tv della libreria Bocca. Esatto, quello che dicevo poc'anzi, appunto dove tu sei protagonista, perché tu e Attilio Miani, che siete, diciamo, le lampade, le fiaccole di queste due realtà editoriali e giornalistiche e appunto della libreria, avete stretto questa partnership nel 2020 e questa rubrica è nata proprio come testimonial di questa collaborazione culturale tra un giornale internazionale e una libreria storica che credo sia veramente una cosa veramente molto, molto, molto bella. Molto, molto bella, sì, molto, molto interessante. Io ovviamente ringrazio Attilio. Allora, cosa combina un personaggio come te oggi che è 6 gennaio 2021? Allora, il 6 gennaio 2021 non andrò in giro con la scopa perché è zona rossa, si può. Anche nei cieli, anche nei cieli. Anche nei cieli, sì, 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 però lavorerò. Lavorerò perché comunque occuparmi di questa rubrica, occuparmi anche della scrittura, occuparmi di arte, per me non è mai un lavoro, è sempre solo un piacere, quindi non ci sono giorni, non ci sono domeniche, non ci sono festività, io seguo il mio cuore, quindi anche il giorno dell'Epifania io mi metterò a lavorare per cercare di realizzare contenuti che possano dare alle persone che li seguiranno un momento di delizia, un momento di relax, un momento di distensione e come si può dire di dare qualche cosa di nutrimento del cuore, della mente e dell'anima, insomma, perché il fine è questo. Facciamo una bella roba, visto che ci vedono e già ci stanno scrivendo in molti, se qualcuno vuole poi intervenire nella social tv che è una cosa molto possibile, dai tuoi riferimenti dove ti può scrivere per segnalarti appunto la sua ricerca artistica e poi tu devi vagliare se appunto ospitarlo o meno, dai tuoi riferimenti. Allora, potete scrivermi direttamente su Facebook Simona Hart oppure, sì, forse è meglio lì perché poi dopo sarò io eventualmente a contattarvi e darvi la mia e-mail se dobbiamo fare approfondamenti come tra l'altro è già accaduto, diverse persone mi hanno scritto su Facebook dicendomi che erano interessate a partecipare, volevano farmi vedere i loro lavori, io poi ho fornito loro il mio contatto telefonico e la mia e-mail e poi da lì la cosa nasce cosa, quindi non c'è nessun problema. Quindi siete tutti coinvolti, tutti voi che ci state guardando, ascoltando, anche indifferite, anche a distanza, anche tra una settimana e dieci giorni, se volete partecipare alla social tv della libreria a bocca è uno spazio aperto, all'aperto, in questo caso a distanza, ma siamo ovviamente contaminabili. Assolutamente, poi se qualcuno non potesse, non riuscisse a scrivermi su Facebook, c'è sempre la libreria a bocca, Giorgio si fa sicuramente portavoce delle... basta mettere il mio nome e viene fuori anche il mio cellulare, ma non mi chiamate, scrivetemi anche sul cellulare perché l'altro io non rispondo. Appunto. Io ricordo la tua rubrica che appunto è tutti i mercoledì del 2021 alle ore 15 sul canale Facebook, salvo imprevisti di collegamenti lontani che la facciamo slittare di qualche ora e allora vi aspetto domani alle ore 15 sul canale Facebook per la quarta rubrica della settimana della Social TV che è quella con Patrizia Gallini. Grazie a tutti e ovviamente grazie a te Simona per questo grosso impegno che ti sei messa su quelle esili spalle. No, grazie a te Giorgio è veramente un piacere. Ciao. Ciao. Ciao a tutti.